Quando è che hai realmente scoperto di essere transessuale? Lo sappiamo da piccolo, ma quando è stata la prima volta che in realtà tu hai detto secondo me questa è proprio la mia identità? Io non ero in realtà nella volontà di diventare una femmina. Io volevo solo vestirmi in tante maniere diverse che non erano con la connotazione maschile. Non credi che questa cosa possa confondere un pochettino la gente perché ovviamente transessuali si raccontano come delle persone che nascono in un corpo sbagliato. Nel tuo caso è un po' diverso. Ormai c'è una sigla LGBT+, e poi ci sono altre forme, no? E probabilmente io sono una di quelle oltre. Che hai aperto la strada a tante altre. Direi proprio per lo spalancarla. Ma meno male, va meno male che l'hai fatto, eh? Grazie a tutti.